Il primo degli aspetti negativi per me è che è un cinema urlato. Questo è un aspetto che ho già notato negli altri due suoi film. Un cinema tradizionalmente fatto di silenzi, di pause come quello di iraniano, anche di tempi morti se vogliamo, molto spesso mi sembra che invece Roussaie abbia quasi un horror vacui e cerchi di riempire qualsiasi momento del film con dei dialoghi anche troppo serrati. Anche troppo concitati, anche troppo urlati. Per esempio un metri scish on hime, devo dire che la seconda volta che l'ho visto, quando l'ho visto insieme a voi nel Cine Club, l'ho apprezzato di più della prima, perché nella prima questo urlarsi contro, questo enfasi, questo tono sempre sopra le righe, sinceramente mi aveva abbastanza stancato. Era stato veramente pressante. Per me quello è un film interessante, per questo ho scelto anche di farlo vedere nel Cine Club, però confesso che è un film che io trovo faticoso. Questo qui, idem. Si urla dall'inizio alla fine quasi, anzi, forse alla fine no, poi dopo avvertirò quando c'è un momento spoiler, così dirò delle cose. Però per me, se ci fossero dei vuoti, di più l'arrei apprezzato. Questa è la mia prima critica. Seconda critica, la durata. Qualche giorno fa ho visto una recensione che ha fatto Claudio Zito sul film. Sono d'accordo con lui. Il film ha un momento, che è quella scena della festa, della festa del matrimonio, di cui vi ho fatto vedere delle immagini, che è un momento probabilmente centrale, un momento anche cinematograficamente più complesso, anche in cui la sua bravura di regista viene fuori. Sembra un po' una scena che potrebbe essere tra Scorsese e Sergio Leone. Tiè, mettiamola così. C'è anche il momento in cui ballano, che è molto bello, molto cinematografico. C'è anche il famoso Gashan Gatasparia, che è quello che lascia entrare a Scania, come abbiamo storpiato noi in Italia. Tutto molto cinematografico, ma da quel momento in poi il film si impalla, potrebbe essere sforbiciato di buoni venti minuti almeno e diventa pesante. Diventa pesante perché tutto viene stirecchiato verso una conclusione che già si intuisce quale possa essere. E non è una cosa banale, perché comunque la capacità di agire in sottrazione è una delle qualità migliori nei registi. Un grande regista come Woody Allen è famoso perché ha sempre buttato intere parti di film, addirittura ha tagliato dei personaggi. Il povero Kim Rossi Stewart, che aveva recitato in Tutti dicono l'ovio, si vide cacopente cassato il suo personaggio, è però perché nell'economia del film alla fine Woody Allen riteneva che fossero delle scene di troppo. Ora, senza arrivare magari a tanto, però qui ci sono dei blocchi di racconto assolutamente superflui e che sono pesanti, risultano pesanti alla fine, perché io sono dell'opinione che un film, la durata ideale di un film è sotto le due ore. Come qualsiasi cosa che deve mantenere viva l'attenzione, quando si superano le due ore comincia a diventare veramente, veramente difficile. È pesante per dei capolavori assoluti della cinematografia, questo con tutto rispetto per Saeedo Roustahi e anche per gli amici iraniani a cui questo film è parso in capolavoro, questo non è un capolavoro. Questo è un film interessante, ma non è un capolavoro. Terzo elemento, e se mi permettete, è quello anche per me peggiore, più grave, e questa è una cosa che io ho rintracciato in tutti e tre i suoi film, ma anche e soprattutto in Matrix Shishonim e qui è peggiorato tantissimo, c'è un compiacimento per lo sporco. Voi direte, che vuoi dire? Che cosa intendi per questo? Proprio per lo sporco, proprio per il gusto, per tutte quelle scene, quelle situazioni in cui ci sono situazioni che fanno pure un po' così, un po' senso, non senso, che sono proprio brutte, sono sporche. Cioè, in questo film ci sono troppi cessi, detto proprio tra noi. C'è proprio un compiacimento nell'evocare, nel rimandare a gabinetti, a momenti di sporcizia, addirittura due scene sono ambientate all'interno di un, di gabinetti pubblici di un grande magazzino in cui i fratelli dovrebbero aprire un negozio all'interno di un centro commerciale, e lui sceglie che questi lo debbano andare, il loro spazio sarà proprio quello che al momento è occupato dai bagni pubblici e loro non ti risparmiano nulla, ti fanno anche vedere e sentire pure tutto quello che accade in un bagno pubblico di uomini in Iran. Ora, cioè, onestamente, io capisco, c'è una differenza tra la realtà e il realismo e filmare espressamente tutto quello che può essere, che può più puzzare di realtà, come dicono gli inglesi, life stinks, la vita puzza. Qui però c'è un compiacimento eccessivo che già io l'avevo notato un po' in Metrici, Shonim, se ricorderete la scena in carcere, nel bagno, col telefono, certe cose non c'è bisogno di sbatterle in faccia troppo. Qui secondo me c'è un compiacimento che non capisco, onestamente, che non ha